È quasi finito il progetto per la nuova ludoteca dei Figline che troverà posto in via Fabbrini nell'immobile dell'Istituto degli Innocenti. 305 metri di superficie è costituiti da un'ampia sala polifunzionale, laboratori, uffici e nuovi servizi igienici. Il progetto di recupero dell'immobile è tutto a carico dell'Istituto e prevede inoltre la realizzazione al piano superiore di una decina di appartamenti, sempre di proprietà dell'Istituto degli Innocenti. Tra l'altro l'attività che abbiamo fatto in questi anni ci ha dato il senso dell'attenzione della comunità di Figline e non solo, quindi credo che sarà una bella avventura da fare insieme. I bambini e le famiglie sono molto attenti, partecipano molto anche alle attività che si propongono e quindi avremo uno spazio bello, grande, ben allestito e centrale, chiaramente riusciremo a fare un lavoro ancora più importante. Siamo appunto nella fase della progettazione esecutiva, l'Istituto ha curato con i tecnici interni e con il nostro servizio la progettazione fino alla fase definitiva, l'investimento complessivo è di oltre 3 milioni d'euro, per cui insomma è un importante intervento che l'Istituto intende realizzare. Quindi un nuovo spazio per i più piccoli e per le famiglie destinato ai cittadini di Figline ed Incisa. Bottega Ragazzi ormai è uno strumento a disposizione delle famiglie, oltre 100 bambini abbiamo ogni settimana di partecipazione e siamo arrivati ormai alla copertura del quasi 90% di quelli che sono gli spazi fino ad ora. E ora parliamo degli spazi nuovi perché, come veniva illustrato anche prima, abbiamo logicamente in questo momento l'inizio della progettazione definitiva di quella che sarà la locazione bassa della ludoteca e sarà anche a disposizione, logicamente, dei cittadini e dell'amministrazione per altri tipi di iniziativa. L'idea è che partendo dai bisogni dei più piccoli si possa progettare un servizio che poi porta vantaggi a tutta la comunità, per cui realizzando un'attività per i bambini dell'area di Figline e Incisa, in realtà si rende un servizio alle famiglie, ai turisti che poi vengono a Figline, anche in qualche modo alle attività commerciali perché il servizio che viene fatto durante il fine settimana permette a chi vuole girare per il centro storico di avere una comodità in più. Quindi questa idea di partire dai più piccoli immaginando però dei servizi che servono a tutta la comunità mi sembra di grande interesse.